divertiamoci con i soldatini seconda puntata visto che vi è piaciuta la prima il vostro jean pier soldatè oggi vi parlerà di colui che nella storia è stato riconosciuto come il più grande imperatore non per la sua statura amici ecco a voi napoleone ma non era bianco il cavallo viene spesso raffigurato su un cavallo bianco che si chiamava marengo ma napoleone ha cavalcato cavalli di altri colori come l'hai rappresentato io l'ho rappresentato con un cappotto grigio con il cappello che il famoso bicorno la coccarda tricolore e la classica posizione di napoleone che abbiamo spesso visto in dipinti l'epopea napoleonica rappresenta attraverso la varietà delle uniformi del tempo una straordinaria opportunità di arricchire la propria collezione in maniera veramente emozionante amici di arizona tv la seconda puntata è terminata ci vediamo alla prossima grazie a tutti